chi è che vatti in diretta che ho problemi in famiglia? no è la nostra diretta far 4 no non sono far 4 che cazzo vatti in diretta che ho problemi in famiglia? chi è che vatti in diretta? ma che problemi in famiglia? hai detto te in diretta? hai detto te in diretta? mi hanno chiamato ora mi devi farlo del culo perché sennò che devi fare? sennò che devo fare? che credi? che credi? che credi? mi farò del culo dai che stai fa? dimmi un po? reggimi in porto levo aspetta un po dai che ci sta pure la tigurezza vai aspetta che fai? vai a diretta che vuoi fare? mi hanno bruciato? mi hanno bruciato? mi hanno bruciato? mi hanno bruciato? mi hanno bruciato?